Alla Salve, che Natale sarà? Che Natale sarà per i Romani? Un Natale bellissimo, adesso c'è la banda. Un Natale bello, festoso e gioioso. Senta, per il 8 dicembre sarà la Natale. La metro apre, la metro apre di sera. La metro di scena è di aprile, per il 8 dicembre. Noi riapriamo come abbiamo detto, sì sì. Grazie. Sarà di nuovo dopo, sarà di nuovo dopo.